Trentino chiude la stagione regolare in casa con un bel 3-1 contro Ravenna, 25-19, 23-25, 25-23, 25-19 parziali dei 7, classifica terminata a quota 47. Terzo posto importante per i play-off che Giannelli e compagni inizieranno tra oltre un mese, mercoledì 10 marzo, la prima gara dei quarti di finale. Tornando a stasera contro i Romagnoli, migliore in campo, Lysinas, Neopapa. Per lui sono molto contento, lui è bene, sta a casa con mamma e sono molto felice.